Il sindaco è delegata del PD di Noa, circolo di Noa, e questo congresso che state facendo qui a Noa, voi appoggiate Renzi. Come stanno andando le cose? Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Tele Galatina. Io intanto parlo a nome del circolo di Galatina perché il segretario, il nostro coordinatore, l'ingegnere Luigi Padialunga, si è dovuto allontanare per un adulto in famiglia, per cui ritornerà a breve. Quindi io presento il circolo di Noa. Oggi si vota per l'elezione del segretario nazionale, si vota per le mozioni. Sono stati qui presenti, sono ancora in corso le operazioni per l'elezione, per la presentazione delle mozioni. Per la mozione di Andrea Orlando, Marcello Risi, per Emiliano Giovanni Leo e per la mozione di Matteo Renzi, l'onorevole Salvatore Capone. Gli iscritti si stanno regando qui, questa location adibita oggi per questa giornata delle lezioni.